La notizia di questi giorni è che è morto a 87 anni il regista dell'esorcista William Friedkin, uno dei più iconici della storia del cinema, noto soprattutto per l'esorcista, ma non va dimenticato il braccio violento della legge, uno dei più grandi inseguimenti in auto della storia del cinema. Ecco, in questo video vi racconteremo come hanno reagito due protagoniste dell'esorcista, Ellen Burstein e Linda Blair, che nel film interpretavano rispettivamente la madre e la bambina posseduta dal diavolo. Ellen Burstein, che rivedremo tra l'altro anche nel sequel dell'esorcista e la nuova trilogia che ci sarà ad ottobre, ha ricordato il regista con grande affetto, in una dichiarazione ha detto Il mio amico Friedkin era uno originale, intelligente, colto, senza paura e selvaggiamente talentuoso. Sul set sapeva cosa voleva, avrebbe fatto di tutto per ottenerlo ed era in grado di lasciarlo andare se avesse visto accadere qualcosa di meglio. Era senza dubbio un genio, ha concluso Ellen Burstein, che nell'esorcista interpreta Chris McNeil, la mamma di Reagan. Tra l'altro, forse molti di voi non lo sanno o non se la ricordano, ma Ellen Burstein compare anche nel finale di Interstellar. Ebbene sì, è la figlia di Cooper, il protagonista da anziana, quindi è Murph da anziana quando Cooper viene salvato, recuperato dai ranger nella stazione orbitante dove c'è gran parte della razza umana, lui ritrova la figlia anziana e quell'attrice è proprio Ellen Burstein. Ma vediamo come ha reagito Linda Blair alla morte di William Friedkin. Tra l'altro Linda Blair era molto piccola ed era veramente una tredicenne, aveva davvero tredici anni quando venne selezionata per il ruolo di Reagan in una delle interpretazioni più iconiche della storia del cinema, ce la ricordiamo tutti, è rimasta impressa a tutti l'interpretazione di Reagan da parte di Linda Blair, che però negli anni a seguire è un po' sparita dai radar. Vediamo cosa ha pubblicato su Instagram. Come fai a spiegare a parole l'affetto che provi per la persona che ha cambiato la tua vita per sempre, insieme al mondo. L'attrice ha poi definito Friedkin un genio, un vero anticonformista, aggiungendo «Ogni attore voleva lavorare con lui e forse la mia storia è la più toccante. Prese una vera tredicenne per intraprendere il viaggio che stava per fare con l'esorcista. La sua è stata una regia impegnativa, con una rigorosa cura per i dettagli. Devo a lui il fatto di aver reso Reagan così iconica. Mi ha spinto oltre i limiti perché fosse scioccante e indimenticabile», ha detto l'attrice. Che poi ha aggiunto «Mi ha protetto ferocemente dalle persone che hanno alzato il dito contro di me il giorno dell'uscita del film. Era il mio regista, amico e protettore. È stato un onore conoscerlo e sono profondamente triste in questo momento». Tra l'altro a ottobre, come ricordavamo, uscirà il sequel dell'esorcista in una trilogia dove rivedremo entrambe le attrici in piccoli ruoli. Il regista di questa nuova trilogia sarà David Gordon Green, che ha voluto ricordare anche lui, William Friedkin, scomparso pochi giorni fa. William Friedkin è stato un'ispirazione per me. Sono rattristato dal fatto che la nostra comunità abbia perso un artista brillante. L'esorcista è uno dei migliori film mai realizzati. Il suo lavoro audace e visionario influenzerà per sempre i registi nella storia del cinema. Tra l'altro su Amazon Prime Video vi consiglio di recuperare un docufilm che parla proprio di come è stato girato l'esorcista con una lunga intervista a William Friedkin. Si intitola Nella mente dell'esorcista e ci sono tantissime curiosità interessanti che riguardano proprio questo film che è rimasto nella storia del cinema e su cui torneremo anche nelle prossime settimane per dirvi un po' di aneddoti e dietro le quinte. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, attivate la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video e non dimenticate di seguirci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!